buongiorno oggi è sabato oggi io non avevo voglia di cucinare non conto neanche abbiamo mandato a Cinzia a prendere un po di cibo per noi e cosa avremmo preso mai oggi a Cinzia? pollo lo spiedo con delle patate spettacolari cucinati con il pollo patatine fritte una cartocciata con le melenzane e due cipolline ma io non ce l'ha detto prima ci si puoi dare nella rossicceria ho fatto mettere delle cose da parte ma le devo pagare c'è cosa sono due cipolline e una cartocciata anzi non nella rossicceria scusate nel panificio da domenico e federica in via roma a bel passo guardate che bello pollo ragazzi vabbè noi iniziamo a mangiare queste patate sono spettacolari patata rosmarino patata fritta sei cose vabbè grazie a Cinzia grazie a chi dirò panificio grazie a chi dirò noi mangiamo ma ci vediamo dopo scetto dopo scetto a dopo